Questo semplicemente per dire c'è una necessità proprio di prendere il testo e intervenire sul testo non soltanto con varianti e con i normali segni e di interpunzione grafici che naturalmente insomma prendiamo e abbiamo presenti ma anche con la distruzione del supporto per esempio lo strappo, la lacerazione, la sovrapposizione della voce che legge, il suono della carta anche che viene abbrasa, cambiata, sottoposta a variazioni e dopo tutto questo non c'è la fissazione della versione presunta migliore ma c'è semplicemente una versione che dopo viene letta ancora diversamente che verrà letta in una successiva scansione esecutiva, una successiva esecuzione in un modo ancora differente. È questo che a me interessa, la non fissazione, intanto il non fissarsi sul processo perché tutto quello che ho appena detto può essere tranquillamente venuto nascosto, che non è quello, è il risultato finale che non è mai finale quello che conta e poi l'operazione, o meglio l'operare, l'atto e non l'azione, l'atto nel momento della sua esecuzione e quindi della sua in qualche maniera rinegoziazione, non si parla non necessariamente almeno di negazione, in questo c'è una differenza profonda con una parte del Novecento a mio avviso.